Io sono fidanzata, gli altri non ne ho idea, qua succedono cose... Come va, come va? Tutto ok? Tutto ok, tutto ok. E il cuore? Dice Valbano? E il cuore? Tutto ok, tutto ok. Sesta puntata di Ballando con le stelle, siamo arrivati al giro di boa. Ma che te sembra una boa questa? Te avevo chiesto una boa. Vabbè, cambiamo un cuore, perché ballando è diventato il gioco delle coppie. Coppie che si formano, coppie che scoppiano. Io voglio finire le clip della Balivo. Sentimentale. Bene, bene. È vero che è tutto bene. Quanti danzata. Quanto molto vado a voglia, tutto bene? Vai, è pronta la Sonia. È il cuore. Il tuo? No, il tuo. Come va il tuo cuore? Da Mara hai detto che era un po'... Stai per diventare papà? Eh, guarda, il 15 finisce il tempo, quindi siamo a giorni, eh. Mandatela questa. Come va il cuore? Il mio è sempre così, è sempre lì, in attesa. Bidanzata. Chi lo sa. E chi lo sa. Come coppia siete affiatati? Sì, molto affiatati. Ci divertiamo, io da sportivo dico ci divertiamo, ma sotto sotto... Scoppiare perché dai, è tanto carino. Lo posso prendere? Lo do a Pacquale? No, ma soprattutto è questo. Ma con Lorenzo tutto bene, ci hai fatto un po'... Ma ragazzi, Ubi Pasquale e Minor Cessat. Siamo una bellissima coppia io e Luca nel ballo, ma nella vita privata... C'è Ale che è venuto anche questa sera. Non ci credo, che sorpresa, non lo sapevo. Sta facendo una grandissima partita. Si sta divertendo. Pernice, le regalo questo. Grazie. Cuore, come va il cuore? Come va, come va? Bastante bene, grazie. Funziona. Non quello d'atleta, quello di uomo. Ah, sì. Bellissimo questo cuore, guarda. Lei è qua, di qua chi c'è? Ma lei è pronta per... Bianca. Stasera pure no. Anche io, guarda, adesso anzi vado a riscaldarmi, ciao.